Musica Salve a tutti ragazzi ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati su Amnesia The Dark Dashen Per fare il terzo episodio di questa serie Dai ragazzi continuiamo questa avventura Che mi sa che oggi ci cagheremo in mano Me lo sento perchè l'ultima volta Stava arrivando secondo me della gente cattiva Molto cattiva Quindi siamo qua sul caricamento Vediamo ok eravamo arrivati qua Sinceramente io non mi ricordo cosa dovevamo fare Quindi andremo in giro e lo scopriremo E' buio ovviamente io Ok Ok scatola contenente e schiacciarino Perfetto Dobbiamo trovare ecco di queste cose qua e anche l'olio Per poter accendere e poter Ok E per poter accendere le luci Perchè sennò siamo veramente fortutissimi Tipo qua non c'è un cazzo Ti hai premuto il tasto left mouse mentre muovi il tasto buzz Per spingere Premi il tasto right mouse per una spinta forte iniziale Ah qui dobbiamo tirare Aspetta mentre muovi Ah Grande Uno in meno Cioè non devo spostare anche Minchia sono Hulk ragazzi Sono Hulk per poter spostare un sasso così Ok uno in meno Dobbiamo spostare tutta questa roba No piede le palle Via dalle palle ho detto Vieni via Grande Grande Ok Un sasso in meno Vieni via anche te Mamma mia ragazzi Cioè mi fa una pipa praticamente Scusate adesso sono gli sassi grossi di me Ok Ok Non me la stavo per tirare in testa Ok E apriamo questa porticella Ok 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 perfetto Fatemi sapere ragazzi nei commenti se vi piace questa serie Perché secondo me Adesso sta per succedere il macello Tipo qua cosa c'è Una candela accesa Non fa mai male Io provererei a tornare nella sala d'ingresso ragazzi Vediamo cosa succede Bello Sì Terremoto di nuovo Che cazzo Ah è vero che c'è sta Merda Che si fotta E' una cosa disgustosa proprio Per cazzo è cosa di dove mi giro C'è un suono Di qua cosa c'è Che cazzo Ah c'è ancora di quelle Creature mistiche Strane Ho visto qualcosa Non posso prenderla Ok Raccolto olio Perfetto Apri No 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 Che cazzo è E se io volessi passare Sei stronzo Fammi passare ho detto Fammi passare Ragazzi non ci voglio far passare E come faccio io adesso bro Togliere sta merda C'è qualcosa di inventario Olio Diario Vai sanità mentale Salute Lanterna Olio Sul Ok Ok Sì Certo No eh Perfetto Io quindi dobbiamo Trovare qualcosa Per passare Questa porta Ma cosa però Porta Tutta chiude Davvero Ok Non si muove Anche questa Basta che stai calmo Basta dirmelo Qua non ci si passa Allora dobbiamo Tornare di qua Per forza ragazzi C'è sta merda Ok Qua cosa c'era Archivi Vediamo Vediamo Questo posto Forse è il posto Più bello Che In cui sono stato Finora Perché C'è della luce Ok Poi succedono Queste cose Ovviamente Almeno ci si vede Qualcosa Ah qua Era dove abbiamo dovuto Tirare avanti I libri Perfetto Per trovare Per aprire questa Fantastica stanza segreta Non è che c'è qualche Segretino Qualche trucchetto Tipo questa pagina Di merda Ok Va bene Ok Non c'è niente Tutte serie di merda Che non pon le palle Libri 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 Una piuma Non so cosa Una candela Qui è ancora chiuso Lì è ancora chiuso Vediamo se Qualche porta Si è aperta Sto giro Perché Se non si aprono le porte Mi trolla Questo da dove viene Questo è ancora così È dura e pieghevole Non può essere spezzata Da mani e strumenti E quindi Come cavolo La distruggo Sta stronza Può essere risolto Non mi dici Però come Sei stronzo Mi sa che Questo episodio Durerà anni Questa non si muove ancora C'è una cassa Ancora di sta roba Ormai ne ho migliari Questa non si muove ancora Vorremmo andare giù Di nuovo Almeno un po' di luce Facciamo Dai C'è una voce Ragazzi incredibile Che comunque Se travi Si rimettono da sole Cioè Bene Dove devo andare Però Spiccati Adesso che ho Le big ass Che posso fare Che qua Sendoveravamo prima Vero Sì E questo Bella ragnatela Questo cos'è Prendilo Subito Prendilo Via Che cazzo Estor Oh mio dio ragazzi No 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 Cos'è 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 No Vai via Bravo Usa l'adoro per aumentare la salute Per berlo Fai doppio clic sull'icona All'interno dell'alimentario Tasso tab Sì Subito Perfetto No però Vaffanculo Che cacchio era quel coso Ho visto un'immagine Che non mi è piaciuta Dove sei andato Amico Amico Là sopra c'è Un'altra Come faccio a prenderlo Aspetta Grande Piano Se questo Fa lo stronzo No No raga Dove è andato Qui non c'è niente No devo andare fuori Aiuto Piano Ok Forse è andato via Ha fatto la prima comparsa Ragazzi Vediamo se ora si può andare su O se c'è qualche porta sbloccata Ok Qui c'è qualcosa No Perfetto Non mi piace ragazzi Questa cosa Andiamo su Io vado su Basta Sto posto Mi ha girato le palle Abbiamo trovato qualcosa Abbiamo fatto qualcosa Andiamo su Sala d'ingresso Pace Ok forse se la stiamo facendo Piano piano Un episodio per volta Moriremo Me lo sento Ok Spendiamo Sto cavolo di Lanterna Così non consumiamo Olio Inutile Andiamo su E vediamo se adesso Si può fare qualcosa Ogni volta che passo di qua C'è sta cavolo di non so cosa Che mi fa paura Vediamo se Proviamo ad andare su O di qua Andiamo se di qua c'è qualcosa No ancora così Ancora così no Non lo so ragazzi Scrivetemi nei commenti Cosa devo fare Magari voi ci avete già giocato Ma datemi dei consigli Perché io davvero sono Un attimino bloccato È mezz'ora che sto registrando E non so più dove andare Davvero Di qua è ancora bloccato Ah no Gli archivi sono Coglione Andiamo a vedere se i vecchi archivi Sono ancora rotti Cioè rotti Nel senso che non ci si può andare Oh mio Dio Ma ce n'è sempre di più Regà di sta roba Prendilo No eh Non posso prenderlo Ma che è sto schifo Cioè Questa era una porta Una volta Aia Stronzo Ok Di qua non ci si può Più andare Ufficiale Mi provo a andare di qua Sempre che di qua Si possa andare Qui Laboratorio Qual era Il laboratorio Chi si ricorda Ragazzi Oh mio Dio Accenditi Oddio No cos'è Cosa c'è lì Pinciti anche te Ok Ok Si sentono delle voci Di bambini Ok Oddio C'è una pagina Non voglio Deve esserci più Che cacchio è Si Un'altra pagina Prendi anche questo Contenitore della sostanza chimica Ah ecco Forse dobbiamo Possiamo fare Gli esperimenti Gli esperimenti Del piccolo chimico Adesso Ok Tutto normale Non mi fa Non c'è nessuna comparsa Vero adesso No perché prima Ho fatto lo scherzetto Ok ragazzi Facciamo che Per oggi Mi sono cagato in mano Abbastanza Va bene Ok Facciamo che Intanto mettiamo pausa Salva i desci Primo Il terzo Il primo episodio Il terzo episodio Ragazzi Che si conclude qua Il nostro caro amichetto Fatto la sua prima comparsa E Adesso Vedremo come Andremo avanti Lasciatemi un bel like Iscrivetevi qua sotto Qualche consiglio Dove andare Per continuare queste serie E niente Fatemi sapere se vi piace Iscrivetevi al canale Per supportarci al 100% Ci vediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi